ci siamo collegati avevamo visto credo uno spicchio di cucina ciao alessandro benvenuto esatto si è proprio così è uno spicchio di cucina giusto hai dei fiori bellissimi lì alle tue spalle eh li ho messi apposta per voi ragazzi io penso che all'inizio non stanno là di solito all'inizio pensavo fosse una lavagna io ho una televisione me l'hanno detto che dallo schermo sembra una lavagna in realtà no se apri ci sono i piatti e i bicchieri ok stai cucinando anche tu come un pazzo in questo periodo in questo periodo sono migliorato un botto sì a livello di paste varie sono proprio migliorato poi per il resto meglio che ordino un po di delivery anche tu ti fai il primo e il secondo lo ordini in delivery esatto sì 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 solo il primo so fa qual è la specialità la specialità è una pasta integrale con allora faccio un soffritto di scalogno pomodorini si è un po d'olio il pesto però già pronto poi mischio grana è buonissima poi un po di pinoli sopra mi trovo sintonizzato devo dire anche sull'uso dello scalogno che secondo me per anni ha vissuto questa reputazione vuoi fare lo speciale ragazzi è buono scalogno non è che una spezia che arriva dall'oriente non so cracco ha scritto un libro è vero che si intitolava proprio se vuoi fare il figo usa lo scalogno il titolo proprio del libro hai ragione hai ragione però poi secondo me non c'è niente di voler fare il figo è proprio buono esattamente esattamente senti bentornato stiamo suonando da qualche settimana il nuovo singolo che è figo e che cita questo anime manga come si dice giapponese con cui siamo che immagino tu sia cresciuto anche guardandolo guardando questi cartoni sei un appassionato reale di in realtà sì perché io proprio tipo proprio nuyasha mi ricordo che lo vedevo in cucina nella tv in cucina quando andavo tipo in seconda media no solo che tipo su mtv lo davano e lo davano tardissimo però tipo alle 11 mezzanotte no e c'era mamma che diceva vai a dormire che domani ti devi segnalare volta che c'è scuola e io tipo stavo lì tutta la notte guarda nuyasha 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 quindi il remind sì è proprio una roba che c'ho da sempre nostra passione per per gli anime giapponesi infatti sono sono molto proud che non mi abbiano bocciato il titolo quando mi è venuta l'idea io pensavo che sai perché all'inizio pure mia mamma e mia amica ayahuasca orascia balascia è vero è vero che potrebbe far pensare a dei prodotti un po più psichedelici diciamo no perché l'ayahuasca se non sbaglio è l'ayahuasca è una specie di funghetto è una specie di peyote che ti fa fare un'esperienza un po così comunque anche gli anime tante volte fanno fare delle belle esperienze psichedeliche senza bisogno di secondo me in seconda media in in seconda serata cioè alle 11 con late night viaggi c'è un po un po viaggi il mood è un po quello comunque c'è anche c'è diciamo il desiderio è sempre quello di far viaggiare a prescindere da esatto no quindi innanzitutto grazie che passate il pezzo a due settimane io non ho mai la fortuna di non riesco mai a sentire il mio pezzo in radio mai sento sempre quello di degli altri no noi passiamo il pezzo anche il video che è molto figo molto stiloso anche perché i costumi sono di riccardo tisci se ho letto se ho letto bene è vero io ovviamente ho avuto la faccia tosta di chiedergli se gli amati di disegnare appunto l'abito proprio del video non gli avevo mandato dei bozzetti che ho disegnato io su dei fogli lui ha preso tipo il mood in uiascia così ha ricreato tipo stabito ovviamente molto più figo di quello che ho in mente io tipo moderno così infatti sono molto molto grato e molto felice è stato un lavoro abbastanza lungo fare questo video e ci ho messo diciamo cinque mesi di creazione io con simone rovellini che poi è il regista del video poi quindi è stato proprio un poi ho voluto anche scegliere la sai tipo della scena della montagna no quello lì praticamente avevamo visto un po di laghi ed erano super fighi dopo dieci giorni siamo riandati a vederli tutti ed erano tutti congelati praticamente sì e questo qui era il lago di montespluga quello sottomadesimo dove tipo mia mamma mi portava da piccolo a sciare quindi in modo nell'altro c'è sempre un collegamento capito anche nel video quindi infatti avevamo fatto il gioco dove sarà dove sarà e avevamo però avevamo scoperto che era ma di ci hanno scritto ci hanno scritto come ragazzi non sapete che il nuovo video di ma mood è fatto ma si cercavamo di capire dove dove fosse girato senti volevo fare un passo indietro allora ma mondo il personaggio che arriva al grandissimo pubblico diciamo con la vittoria di sanremo però erano anni insomma che faceva musica avevi partecipato a un sacco di concorso e anche con degli ottimi risultati ma anche sanremo giovani anche sanremo giovani esatto ero in giuria io ero in giuria e ti avevo eletto nel nel 2016 dici certo certo nel 2016 area sanremo no area sanremo io ero uno dei sei giurati è vero che c'era anche la carolina certo eravamo io carolina andrea delogu rosita cimentano giovanni allevi e piaro chiambretti e carlo conti sette eravamo e ti avevamo votato vabbè niente quello che volevo dire che non tutti sanno che prima di esplodere con sanremo insomma sanremo che poi ti porta l'eurovision e tutto il resto sabato vinci sanremo il sabato prima concerto all'oibo di mammut è un localino bellissimo era purtroppo ormai un localino perché non non ce l'ha fatta a resistere diciamo la pandemia insomma la grande difficoltà dei locali però io ho sempre sentito questa questa è diventata quasi una leggenda metropolitana dice no lui era impegnatissimo saremo ma ci teneva così tanto che pur nel casino insomma del pre sanremo ha voluto fare questo concerto come è vera questa storia adesso vi racconto proprio come andare praticamente c'eravamo un quattro mesi che io facevo mandare da un mio amico le mail ai tipi dell'eboa fingendo fosse il mio manager ma io non avevo e quindi dicevo dai dai chiedi chiedi se ci fanno fare un concerto così quindi tre mesi a lottare a lottare così tipo che poi non ci rispondevano quindi aspettiamo poi ci rispondevano quindi chiedevamo così a una certa tipo faccio saremo giovani vinco e tipo mi ricordo qualcuno del team di lavoro fa no no dai domani devi partire a sanremo che ti metti a fare il concerto il giorno prima e faccio non ti devi permettere che ci stanno da quattro mesi che cerco di farci lavoro per lo ibo grande è stato praticamente il primo concetto che era cioè io ero entrato nel camerino poi venivano dei miei amici dentro con mia cugina che mi fanno poi ma guarda che fuori c'è la fila cosa che non era mai successa no grazie figata c'è la fila c'è la fila ed è il primo concerto dove ho visto la gente che cantava tipo le le mie canzoni no che poi tra l'altro non eravamo neanche con tutta la la band che c'era scusate ragazzi stanno suonando tra l'altro no stavo dicendo che non c'era neanche tutta la bella banda completa cioè che di solito siamo io francesco fugazza alle tastiere alla chitarre e al mug poi c'è marcello griglia e lia pastori eravamo solo io e marcello no si si era tipo il microfono quindi proprio sgangherati però è stato proprio uno dei concetti più figli che abbiamo mai fatto bellissimo questa cosa questa cifra cioè di mescolare il mainstream chiamiamolo così con il mondo indie sia una cifra che tu hai e che io trovo veramente affascinante dopo la vittoria di sanremo noi siamo stati insieme a tel aviv per eurovision che è un'esperienza incredibile anche a livello internazionale ti ricordi e dopo una settimana tornati in italia se non erro tu eri al miami che questo festival di musica indipendente di milano dopo il miami quindi no il miami una settimana dopo l'eurovision secondo me e penso sia parte penso sia la prima volta che un vincitore di sanremo certo partecipa il miami pochi mesi comunque a proposito di quello che dicevo che mi ami io c'è ero proprio fan del miami è quello il bello infatti infatti sempre andato al miami tra l'altro pure l'altro giorno credo che tempo che fa ho detto che quest'anno tipo il c'è il cast di sanremo no sembrava quasi come se fosse il miami di qualche anno è vero è vero quindi sempre un po nel mio cuore il miami certo ma cose tanti dei personaggi comunque a proposito di quelle interviste diciamo internazionali perché poi quando vai all'eurovision l'artista italiano vincito di sanremo si fa conoscere gli altri è stato veramente bellissimo sentir parlare in inglese di grato soglio che la parte diciamo di milano da cui tu arrivi no not really milano you know it's south side you know towards rozzano grazzo soglio era veramente figo cioè perché ogni volta deve essere i come from harlem the bronx e non si può dire grazzo soglio ma poi mi ricordo pure le interviste che pure voi vi siete sparati ogni tanto di grandi grandi gaff diciamo però era quello il bello perché facevamo sempre molto tardi e ci svegliamo sempre molto presto alla fine della settimana la paghi in rincoglione rock'n'roll però rock'n'roll è davvero grande divertimento ma ma mood in bocca al lupo speriamo di poter parlare di nuovo raga grazie mille e di spero di parlare ancora con voi siete stati molto molto simpa ciao ciao ci vediamo presto live ciao ciao ragazzi speriamo in watch a ma mood era di dj summer camp